Il vino non può essere servito in un comune bicchiere, ma serve a un calice adatto. Noi abbiamo scelto RCR, Cristalleria Italiana, la degustazione a portata di mano. Questo piatto molto delicato e molto profumato viene abbinato con questo vermentino Doc Maremma, 12 gradi e mezzo, del 2012. Il vermentino è il classico vitigno della costa toscana e del bacino mediterraneo. Lo troviamo appunto in Toscana, lungo tutta la costa, lo troviamo in Sardegna e lo troviamo in parte della Rivera di Levante in Liguria. Questo vermentino ha la sua particolarità nella sua sapidità, nella sua acidità e nella sua rotondità come ingresso in buca. Sposa benissimo la delicatezza e i profumi del piatto e accompagna delicatamente questa pietanza.